Sarà soprattutto una giornata di ascolto, non ci sarà dibattito ma sarà un pomeriggio ricchissimo perché i contributi saranno tanti, i contributi soprattutto delle associazioni impegnate in tema di famiglia e dei politici amministratori impegnati sia a livello nazionale che regionale e porteranno il loro contributo e soprattutto tracceranno le linee del Partito Democratico a livello nazionale. A livello locale poi attraverso la consultazione e l'ascolto nei circoli i cittadini si sono espressi, hanno indicato delle priorità, non sono certamente lo stadio che oggi la stampa riporta, ecco lo stadio a Borgosatollo, non è tra le priorità evidentemente di questa amministrazione cittadina la famiglia, ecco, e piuttosto l'amministrazione cittadina ha tagliato i fondi praticamente copiando sia la regione Lombardia che ha tagliato un miliardo di euro nel 2010 e in più diciamo la finanziaria dello 2011 che ha messo veramente a zero i fondi relativi alla famiglia. Ecco, questa giornata vuole essere proprio questa espressione, ecco, una scossa forte all'amministrazione perché ascolti non a parole ma coi fatti, ascolti i cittadini, i loro bisogni, le loro aspettative perché le famiglie stanno soffrendo tantissimo.